Allora ce ne andiamo! All'inizio della curva prosegue in vantaggio la profusione nei confronti di Dreamlifter, Paveni, Kistail, Jufeum, Sadova Reiser, Pachito e Luna Lunatica. Poco prima dell'ingresso addirittura è sempre in vantaggio Walla la profusione davanti a Dreamlifter, Paveni e Kistail. I cavalli entrano in vantaggio con Walla la profusione in vantaggio davanti a Kistail a centropista, Sadova Reiser, Jufeum, Paveni che per linee interne è in vantaggio. Walla la profusione attaccata all'esterno da Jufeum e Kistail, passa Kistail davanti a Walla la profusione, Jufeum, Paveni, Luna Lunatica e Pachito. È in vantaggio Kistail davanti a Jufeum, Paveni e Walla la profusione. Grazie. 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 Grazie.